Da oggi a Milano il presidente della Pescara Daniele Sebastiani e il DS Pasquale Foggia per le ultime operazioni di mercato. Chiusura a sessione estiva venerdì 30 agosto alle ore 24 speciale su Rete 8 a partire dalle 23.30. Obiettivo attaccante Foggia cercherà di chiudere per Michele Marconi legato all'Avellino sino al 30 giugno 2025. Contratto a cifre proibitive pari a 320.000 euro netti. Mariano Grimaldi, agente del calciatore, e il Pescara hanno trovato l'accordo sulla base di un biennale. Per andare a Dama serve però la risoluzione del rapporto con il club Irpino. Al momento le parti sono molto distanti. Classe 89, 35 anni già compiuti, Marconi è un centravanti potente di movimento. Davanti può giocare anche a due ma è una prima punta. Attacca bene la profondità, forte fisicamente, riempie l'area avversaria. Ottimi risultati con la Pisa di Luca D'Angelo nel triennio 2018-21. Promozione in B e 28 gol nel torneo cadetto. Poi però la sua vena realizzativa si è decisamente affievolita. Nelle ultime tre stagioni solo 10 reti, 3 con l'Alessandra in B, 7 con l'Avellino nell'ultimo biennio. Le altre trattative. Foggia a caccia di una mezzala a tutto campo. Complicato il ritorno di Luca Valzania in uscita dalla Cremonese. L'ex Biancazzurro vuole restare in B. Sulle sue tracce Cesena e Carrarese. Merola resta un punto interrogativo. Il Trapani sembra deciso a rilanciare. L'ambizioso club siciliano ha raggiunto da tempo l'intesa col Pescara. Cessione a titolo definitivo. A circa 700 mila euro bonus compresi. In stand-by in Prota che piace al Catanzaro. Forse arriverà un under come alternativa nel ruolo di terzino destro a Pierozzi che causa infortunio muscolare. Salterà sicuramente il match con la Torres in programma all'Adriatico. Domenica prossima alle 20.45 e probabilmente la successiva trasferta di Rimini. Al suo posto giocherà Staber. Non esattamente un terzino di ruolo.